Siamo qui nel borgo di Castellaro Lagusello, uno dei borghi più belli d'Italia in provincia di Mantova, dove tra pochissimi giorni prenderà vita la 31esima edizione della manifestazione i fiori di Castellaro Lagusello, una tra le manifestazioni più attese del comune di Monzambano. I protagonisti di questa 31esima edizione saranno come ogni anno piante, fiori, arredo giardino ma numerosissimi altri saranno anche gli espositori, artisti, hobbysti che proporranno articoli inerenti al mondo del florovivaismo. Numerosissime saranno anche le attività che potrete trovare all'interno della manifestazione, conferenze, presentazioni di libri di poesia e un'attrezzata area bimbi in cui i vostri bambini potranno divertirsi con laboratori e intrattenimento. Avremo anche un'attrezzata area food dove potrete degustare panini, piadine e risotto e interessanti saranno anche le passeggiate erboristiche all'interno della riserva gestite in parte da progetti officinali e in parte dalle guardie del Parco del Mincio in orari e date prestabilite. Vi ricordiamo di continuare a seguire le nostre pagine social Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati sul programma della manifestazione. Non mancate a Castellaro Lagusello il 25, 26, 27 e 28 aprile. Grazie a tutti!